molto buongiorno quest'oggi andiamo a fare un video su come montare un interruttore su ogni bms avevo già fatto un video dove lo spiegavo brevemente però man mano ovviamente che faccio video mi fate domande man mano riesco a capire l'utenza che ho davanti che tipo di persone siete quanto ve ne intendete sia di elettronica insomma che metterci le mani e tutto siccome è una cosa che ho visto abbastanza richiesta faccio un video con una risposta unica allora i bms generalmente si dividono in due tipi ora con giugno due economici e con poche funzioni in alternativa abbiamo anche i bms un po più strutturati con un pochettino più di funzioni andiamo a vedere intanto questi dunque si dividono in due tipi quelli particolarmente semplici tipo questo che non hanno dispositivi per il controllo del delle celle semplicemente vanno a cascata ogni cella controlla la cella prima viene misurato il la differenza di voltaggio se superiore a un tot il bms non funziona se inferiore a tot il bms funziona questo è un tipo in alternativa abbiamo un altro tipo di bms che invece hanno questo dispositivo che sono come vediamo qua giù un cipettino che controlla controlla lui i vari voltaggi e la parte di qua invece serve per il bilanciamento quindi abbiamo tutte queste resistenzine qua giù che servono per bilanciare laddove sono c'è una differenza di potenziale troppo alta quindi il dispositivo fa passare la corrente qua giù e fa scaricare il voltaggio in alternativa a lui che effetto tutti i controlli allora per attaccare un interluttore abbiamo bisogno semplicemente di un tester perché quello che andiamo a fare oggi allora ovviamente potremmo prendere in questo caso qua giù potremmo prendere tantissimi punti di segnale se noi riusciamo a vedere il codice del chip possiamo andare a vedere il data sheet andare a vedere dove ha l'ingresso o l'uscita di alimentazione quindi del vdd e il vcc e andare a vedere dove ha l'alimentazione quindi si potrebbe staccare uno di questi piedini o semplicemente prenderlo a monte e andare a prendere l'alimentazione di questo qua giù in alternativa andiamo invece a lavorare sui mosfet di uscita che in questo caso abbiamo la batteria la ricarica che va su questo e quest'altro qua giù sull'uscita è molto bene molto importante capire quali sono realmente dell'uscita si può verificare di solito dal codice che quelli di uscita è diverso da quello di ricarica in alternativa qualora il codice insomma fosse uguale quindi non riuscissi a capirlo da lì posso usare un semplice tester messo su continuità e andare giù quando si va a toccare dalla continuità ok e andare a vedere quali di questi sono in contatto quindi ad esempio si va a toccare in questa maniera o si va a toccare in quest'altra maniera ok per cercare di capire quali sono messi in parallelo perché questi saranno messi in parallelo quindi andiamo a cercare di capire quali di questi sono in parallelo e stacchiamo il piedino quello del controllo uno va sulla batteria e uno invece va sul controllo quindi cerchiamo di capire quali di questi va sul controllo se quello di destra quello di sinistra e li stacchiamo possiamo staccarli o tutti e tre oppure andiamo a fare la continuità tra il piedino di controllo e questi piedini qua giù cerchiamo di capire quale di questo piedino al controllo e lo stacchiamo direttamente da qua giù in mezzo ci mettiamo un interruttore così che quando è chiuso il passaggio è normale il funzionamento normale e il bms funziona mentre quando è aperto il mosfet qua giù riceve il voltaggio zero e quindi non funziona in quest'altro caso dove non abbiamo il dispositivo la cosa è molto più semplice basta andare a prendere i piedini qua giù anche questi saranno in parallelo basta guardare la continuità e andare a prendere i piedini quelli sempre di controllo e non quelli invece che vanno sulla batteria che un piedino andrà sulla batteria mentre un piedino andrà sul controllo dobbiamo capire qual è che va sul controllo anche qui si può prendere o quello del controllo e staccare tutti e tre quelli del controllo metterli in parallelo magari con un filettino e metterci l'interruttore oppure andare a vedere dove arriva questo segnale e staccarlo a monte tutto Grazie.